L'uomo di cui ti ha parlato l'ostedrica è il generale Mauro Castelletti, della base nato di Gaeta. Quando veniva a Vicenza, alloggiava nella foresteria in cui è nata Anita. Il generale con la figlia. Chi ti ricorda? Questa è Luisa. Luisa non è chi dice di essere. Il suo vero nome è Linda Castelletti. Oltre a questo non ho trovato nient'altro. Sul web Linda Castelletti è inesistente. L'hanno fatta scomparire. Ma è una follia. Perché Luisa avrebbe dovuto rapire mia figlia per poi mettersi con Davide? Non ha senso. C'è Anita. Ciao. Ciao. Ero passata per un saluto. Meno male che siete arrivati così, non rimane da sola. Certo. Ero passata per un saluto. Grazie a tutti